un'altra parte con una porta, lo tira e basta trovare, lo aiuta con una forte, quando ho avuto un po' linto, guarda la bassa. Da un problema che si corre, poi faccio un volocione. Calvo escivito e semplice camminare. Ho avuto un po' ambezzato. Un paolo che sempre sono il suono, e mi tiro un po' al centro, uno por allà. un'altra opzione 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 un'altra opzione